La maggior parte di e-commerce al giorno d'oggi basano la propria crescita solo e esclusivamente sull'advertising e lasciatelo dire, non c'è niente di più sbagliato. Questo perché molti e-commerce per poter aumentare il fatturato con la speranza anche di aumentare i profitti vanno ad aumentare il budget investito in ads. Il problema è che questo aumentare di budget molto spesso genera solo un aumento di volume, quindi di fatturato ma l'innalzare di fatturato genera anche un innalzamento dei costi e di conseguenza i profitti rimangono uguali e i margini di profitto si riducono davvero al minimo.